Giannira D'Amato aveva solo 21 anni e lei l'ennesima vittima di femminicidio massacrata di coltellate a pietre ligure dal fidanzato di 20 anni, Alessio Alami a Burastero, che non sopportava il fatto che lei lo volesse lasciare. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio nell'abitazione che la vittima divideva con il suo assassino in Piazzetta Morelli. Alessio Alami ha colpito Giannira più volte con un coltello, lasciando il suo corpo esamine nel salotto dell'alloggio. Poi, dopo aver girovagato per un paio d'ore, si è recato a Loano da sua nonna e le ha confidato l'accaduto. L'anziana donna lo ha quindi convinto a costituirsi e l'omicida si è così presentato nella caserma dei carabinieri di Loano e ha raccontato tutto ai militari che lo hanno arrestato. Il corpo senza vita della giovane è stato trovato intorno alle 22 e sono scattati i rilievi da parte del magistrato che conduce l'inchiesta, il sostituto procuratore di Savona, Danila Pischetola e dei carabinieri del reparto investigazioni scientifiche. Giannira D'Amato, Sciacchi per gli amici, aveva studiato all'istituto alberghiero Migliorini di Finale Ligure, prestava servizio come volontaria nella Croceverde di Finalborgo e attualmente stava facendo un corso di formazione ad Arenzano per essere impiegata a bordo delle navi della Costa Crociere. I due giovani, stando a quanto ricostruito finora dagli inquirenti, erano in procinto di separarsi a causa della folle gelosia di lui, una gelosia che ieri sera lo ha portato a spezzare la giovane vita della sua compagna e a finire questa mattina rinchiuso nel carcere di Imperia.